Nel giro di sole 48 ore il Catania passa da un post partita ad una vigilia ed è già pronto a tornare in campo per una sfida che vale il primato in classifica dopo aver espugnato Cosenza con 1-0 cinico e concreto. Quattro vittorie consecutive sono un bottino eccellente, ma adesso si attende il quinto successo contro la capolista Monopoli per compiere il sorpasso ai danni dei pugliesi. Le due squadre sono separate da un solo punto e se dovesse arrivare il successo il Catania scalzerebbe gli avversari dalla vetta mettendoli alle spalle di ben due punti. I presupposti ci sono tutti anche ambientali perché è finalmente certificato che si è ritrovato pure il feeling completo con la tifoseria che anche a Cosenza ha fatto sentire il proprio peso cantando e ballando con la squadra al termine del match vinto per mano di Mazzarani. Può essere proprio lui l'uomo in più del Catania che lo ha aspettato come lui ha fatto in silenzio con Lucarelli. La scelta è stata giusta e a Cosenza è arrivata la sua zampata, quindi chissà che non venga riconfermato anche domani. Lo dirà probabilmente la rifinitura di oggi nella quale si valuteranno anche le condizioni di Marchese e Russotto ancora non al top. Nel frattempo c'è da definire il duo d'attacco nel quale sarà probabilmente opportuno avvicinare nuovamente Curiale con Ripa per evitare di appesantire eccessivamente il recupero del numero 9 del Catania che però anche sabato sera ha dimostrato di essere importante e proviziando il gol come era accaduto contro l'Andria.